buongiorno sono le 11 del 12 novembre 2021 questa è la commissione garanzia e trasparenza siamo al primo appello procedo a chiamarlo ma italiano assente giaconia assente arcoleo assente di sa assente ferrandelli assente figarra assente forello assente lo monaco assente me assente susino assente russo assente tanti assente c'è la bassa verificata l'assenza di tutti i consigli vi si rinvia la salute di un'ora